Relazioni annuali della garante per l'infanzia e adolescenza e del garante per i diritti degli animali. Approvato il bilancio consolidato della regione Piemonte. Stanza dell'ascolto, quale supporto viene offerto alle donne. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati in aula la relazione annuale della garante per l'infanzia e adolescenza, Ilenia Serra. Sono state 158 le segnalazioni pervenute alla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Ilenia Serra, nel biennio 2022-2023, principalmente legate a problemi di affidamento condiviso, tutela dei minori stranieri non accompagnati, diritto allo studio per i minori disabili e criticità nelle strutture di accoglienza. Serra ha sottolineato l'aumento dei minori non accompagnati in Piemonte e Valle d'Aosta e l'aumento della sofferenza psicologica tra bambini e adolescenti. Le segnalazioni sono un importante strumento per il garante, sia per far emergere delle situazioni di criticità, ma sia soprattutto per svolgere quel ruolo che gli è proprio di ponte tra le esigenze delle persone di minorità e le situazioni regionali. Uno dei temi principali che ho sviluppato, ma perché l'attenzione generale è molto alta, è quello del benessere dei minori. I dati ci riportano un quadro di crescente fragilità da parte dei minori, dei bambini anche e dei ragazzi ed è quindi assolutamente fondamentale continuare a lavorare in rete in sinergia fra tutti i servizi per riuscire ad offrire innanzitutto una presa in carico adeguata, ma anche e soprattutto per svolgere un'attività di prevenzione. Nel dibattito in Consiglio regionale, Monica Canalis, Partito Democratico, ha sottolineato la necessità di un'integrazione tra servizi educativi, sanitari e sociali per una tutela efficace e non frammentaria dell'infanzia. Gianna Pentenero, Partito Democratico, ha evidenziato l'importanza di personale competente ai servizi capillari per l'inclusione dei minori stranieri e con disabilità, mentre Emanuela Verzella, Partito Democratico, ha posto l'accento sulla dispersione scolastica. Vittoria Nallo, Stati Uniti d'Europa, ha parlato delle problematiche legate alla salute mentale degli adolescenti, aggravate dalla pandemia. Federica Barbero, Fratelli d'Italia, ha ribadito il ruolo della politica nel sostegno alle famiglie, apprezzando il lavoro del Governo e della Giunta su questo fronte. Alessandra Binsoni, Fratelli d'Italia, ha richiamato l'urgenza di politiche per incentivare la natalità, mentre Giulia Marro, Alleanza Verdi Sinistra, ha criticato il recente decreto ministeriale che permette l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nei centri per adulti, chiedendo maggiore attenzione e supporto culturale. Gianna Gancia, Lega, ha invitato a un approccio unito tra donne politiche per affrontare queste problematiche, mentre Annalisa Beccaria, Forza Italia, ha promosso il diritto alla partecipazione dei minori con disabilità nel contesto sportivo. Infine, Silvio Magliano, lista Cirio, ha evidenziato l'importanza della formazione degli insegnanti di sostegno e della prevenzione del suicidio giovanile, lodando la crescente collaborazione tra istituzioni per garantire diritti ai minori. In Piemonte, Censiti, 1,15 milioni di cani e 1,2 milioni di gatti. Numeri che emergono dalla relazione del garante per gli animali Paolo Guiso, che ha anche sottolineato il difficile rapporto tra l'uomo e gli animali selvatici e domestici. L'importanza della relazione uomo-animale, ma anche le criticità legate alla cattiva gestione e alla scarsa conoscenza delle caratteristiche degli animali, al centro della relazione annuale del garante per i diritti degli animali Paolo Guiso, presentata al Consiglio regionale. In Piemonte sono censiti oltre un milione di cani e circa 1,2 milioni di gatti. Il garante si impegna a tutelare i diritti degli animali, spesso trascurati, attraverso incontri con cittadini e associazioni e partecipazione a eventi. Guiso ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro tecnico per affrontare problematiche legate agli animali selvatici, al maltrattamento genetico e alla diffusione di malattie trasmissibili. Ovviamente i selvatici sono diversi, ma quando il selvatico è un lupo è il mondo della storia, della nostra cultura e anche dell'affetto nei confronti di un animale affascinante, si scontrano con le necessità di gestione del territorio. Un altro argomento che abbiamo affrontato è quello della gestione degli animali familiari, soprattutto il cane ma anche il gatto, che inseriti nella vita dell'uomo non fanno una vita ideale, soprattutto perché noi diamo agli animali delle caratteristiche e pensiamo che abbiano delle esigenze che sono assolutamente diverse da quelle che sono in realtà una loro necessità, una loro caratteristica. Il dibattito in consiglio ha toccato vari temi. Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, ha proposto di potenziare le risorse per il garante e ha affrontato la questione degli ambulatori veterinari sociali, mentre Giulia Marro, Alleanza Verdi Sinistra, ha criticato la manipolazione genetica delle razze animali. Nadia Conticelli, Partito Democratico, ha sollecitato misure per la detenzione a catena e il contenimento dei piccioni, mentre Laura Pompeo, Partito Democratico, ha richiamato l'attenzione sull'accattonaggio con animali. Carlo Riva Vercellotti, Fratelli d'Italia, ha proposto di ampliare la legge regionale del 2024, includendo animali esotici e promuovendo il possesso responsabile. Valentina Cera, Alleanza Verdi Sinistra, ha chiesto maggiori sforzi contro il randagismo e l'aumento delle risorse per sterilizzazioni. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei votanti il bilancio consolidato della Regione Piemonte per il 2023. L'assessore Andrea Tronzano ha spiegato che il bilancio comprende vari enti e società regionali, tra cui la Regione Piemonte, 5 TSRL, ARPA Piemonte, l'Agenzia per la Mobilità, Fin Piemonte S.P.A. e il CSI Piemonte, per un totale di 27 entità. Sono stati esclusi dal consolidato numerosi altri enti considerati irrilevanti in base alle normative nazionali, su un totale di 115 soggetti con interessi regionali. Durante la stessa seduta il Consiglio ha approvato anche due emendamenti che includono la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti come parte integrante della deliberazione. Stanza dell'ascolto, quale il supporto alle donne? Se ne è parlato all'interno dei Question Time dopo la manifestazione di sabato scorso all'ospedale Sant'Anna di Torino. L'assessore Maurizio Marrone ha definito l'intervento di sabato presso l'ospedale Sant'Anna come un'irruzione non autorizzata piuttosto che un sopralluogo da parte della CGL e delle volontarie dell'associazione Senonora Quando, rispondendo all'interrogazione di Nadia Conticelli, Partito Democratico, che denunciava la mancanza di dignità rispetto a informazioni nella stanza dell'ascolto per le donne, Marrone ha spiegato che il supporto è garantito dal Movimento per la Vita in base a una convenzione con l'ospedale. Questo supporto è rivolto a donne in difficoltà, anche a rischio di considerare l'interruzione di gravidanza. L'assessore ha precisato che le attività sono monitorate dall'azienda ospedaliera e che la convenzione ha già superato un ricorso al TAR. Nel 2023 le associazioni hanno assistito 108 donne o coppie su 478 totali. Nuova legge sul commercio, monitoraggio dei cambiamenti normativi per restare al passo con i regolamenti europei e miglioramento della legislazione piemontese anche alla luce delle norme che disciplinano le regioni circostanti nei settori artigianato, industria e commercio. Sono solo alcuni degli obiettivi che si prefigge. La terza commissione è presieduta da Claudio Sacchetto con i vicepresidenti Monica Canalis e Marco Protopapa. La terza commissione raggruppa tutte le attività produttive, l'artigianato, l'industria, l'agricoltura, il turismo, il commercio, la montagna. Quindi diciamo che è la commissione all'interno del quale si discutono le norme, le leggi e i regolamenti che vanno nella direzione di migliorare l'attività di queste produzioni. Credo che i punti nodali del prossimo futuro saranno la crisi dell'automotive, la peste suina africana e in generale l'impatto negativo del cambiamento climatico sulle culture piemontesi. Pensiamo alla cultura delle nocciole, la core di cultura e la formazione professionale in una regione che ha 108.000 NIT, cioè giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Settori vitali, settori che hanno dimostrato di insieme dare un'offerta promozionale del nostro Piemonte importante, logicamente devono essere seguiti con delle norme e soprattutto degli aggiornamenti che sono sempre più importanti proprio perché oggi il mondo cambia e il Piemonte deve essere sicuramente aggiornato su questo. Sport e salute, valori da sostenere. Così il presidente Davide Nicco ai giovani della Pallavolo, un'occasione anche per visitare la sede storica del Consiglio regionale e la mostra a Palazzo Lascaris e i suoi abitanti aperta fino al 20 dicembre. Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha accolto a Palazzo Lascaris le giocatrici partecipanti al torneo internazionale giovanile Youth Volley League quando Sport e Salute si incontrano, sostenuto dal Consiglio regionale con un contributo. Le squadre coinvolte includono in Volley Piemonte di Chieri, gli amici di Emmy e Chiara di Crema e Duca Volley dell'Albania. Nel suo discorso Nicco ha evidenziato l'importanza della partita amichevole di Volley integrato in cui le atlete normodottate e con disabilità giocheranno insieme promuovendo inclusione e rispetto reciproco. Dopo l'incontro le atlete hanno visitato le sale storiche di Palazzo Lascaris e la mostra Palazzo Lascaris e i suoi abitanti, aperta fino al 20 dicembre. Nonostante la ristrutturazione che stiamo facendo è comunque libero e fruibile ed è veramente un museo a cielo aperto, quindi è assolutamente importante anche per la crescita di questi giovani una visita nelle nostre bellezze architettoniche ed artistiche. Lo sport è anche sinonimo di sanità e di salute, quindi questo è positivo a prescindere, ma trasmette anche dei valori, dei valori di lealtà, di correttezza e di amicizia che specie per queste ragazze in giovane età, nell'adolescenza sono fondamentali. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! 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 Arrivederci!